Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradaria regionale e in FIPILI. In superstrada ricordiamo che sono in corso lavori all'altezza del turbone con possibili disagi nelle due direzioni tra Montelupo e Ginestra. Voltiamo pagina in conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus. Ricordiamo di limitare ogni tipo di spostamento non necessario. Ricordiamo inoltre che è in vigore l'ordinanza dei Ministeri della Salute e dell'Interno che vieta di uscire dal comune dove ci si trova, salvo motivi di necessità, lavoro o salute. Fortemente rimodulati inoltre il servizio ferroviario e il trasporto pubblico locale in tutta la Toscana. Muoversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!